Ciao a tutti, vi presento la mia crostata con crema di tofu e pezzetti di cioccolato. Le dosi le trovate in descrizione. Comunque ho messo farina, fecola, zucchero, olio, mezza bustina di lievito per dolci, scorsa di limone grattugiata. No! Gli no che avete sentito era un'imprecazione perché mi ero dimenticata di filmare quando ho messo il tofu per poterlo poi frullare insieme allo zucchero. Mentre per il ripieno ho messo un panetto di tofu, del cioccolato fondente tagliato a pezzetti, la scorza grattugiata di limone, un po' di latte e un po' di zucchero. Il latte per ammorbidire un po'. Una volta preparato il tutto, la inforniamo a 180 gradi in forma statica per mezz'ora, controllare sempre la cottura. Se vi piacciono i miei video o le mie ricette, iscrivetevi al canale e mettete un like. Vi ringrazio! Grazie! Grazie!